A battere ogni barriera che limite e esclude contribuisce ogni giorno a sottolineare il valore positivo delle diversità, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Dal 2022 a casa di 4 milioni di persone con disabilità arriverà la Disability Card, un progetto presentato dalla Ministra Erika Stefani con il Presidente IMSS Pasquale Tridico. Una tessera con i dati digitali relativi alla propria disabilità per la semplificazione. Il mondo della disabilità va visto come un mondo di risorse da mettere in campo, conclude Stefani. Grazie a tutti.